la luci è schiocca, basta, è andato in panica iniziamo allora no ok siamo i crewmate quindi non dobbiamo farci accoppare oh occhi aperti c'è anche il signor culo cane e il masseo che è il mio rival oddio mi uccide il masseo c'è una pallina tipo non lo so non lo so come bravo lo chiameremo masseo il palloncino allora noi dobbiamo fare i task però secondo me ora ci facciamo questo poi io direi ci slama oh oh tempest proteggimi tempest proteggimi facciamo anche questo alziamo questo al massimo via 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 scappiamo da bonjour aslan anche vabbè lo scioppone guarda come slida michael jackson ma come slida è un mega killer no no via via e allora la super tattica si è la super tatticona questo sta facendo le quest come si pronuncia quel nome sta facendo le quest sta facendo le quest quindi o non è lui oppure sta facendo finta io ho paura di aslan perchè devi sapere che lui è spesso l'assassino c'è un reattore che sta esplodendo allora andiamo al reattore vai use use ok no è morto lo slidatore il signor fanarcio ok quindi anche culo a culo no fanatissimo ok vediamo cosa dicono dove il signor bonjour a communication noi abbiamo visto che was not non era risata malvagia eh oh risata malvagia vuol dire male io skip il masseo un saluto al masseo eh skip skip e ce ne laviamo le mani comunque secondo me è tempest fidati eh ma non stagli troppo vicino eh ho un po' paura no guarda come mi sla no eh cosa voleva fare ti aspreguarda cosa voleva fare hanno votato tempest ok è lui parese fuck gli hai ucciso tempest hai inventato fuori dal finestrino ho fatto una cazzata ho fatto una cazzata abbiamo sbagliato tutto rip niente allora la non sappia niente secondo me è aslan è aslan dici perché mi seguiva troppo senza sapere niente no perché ti ha dato ragione a mani basso infatti è esattamente quello che ho prima retta si ma non ti stavo scanzando ok ok qua c'è una tasca vabbè noi facciamoci gli affari nostri ma la vedo dura eh la vedo molto dura stai prendendo fuoco l'ossigeno stai esplodendo gli amici ma se succede eh non lo so no era quello da fare no aslan te l'ho detto lo sapevo aslan e l'osno c'era mai nella vita era lui era lui dai guarda tempest da solo stra triste nooo non l'angolissimo rip ma dai rip eroni te l'ho detto aslan è sempre l'assassino perché è è lapidato tempest ho lapidato tempest ha maledetto mass dai ma rip vai dai assassino ti prego assassino ti prego Ti ho rischinato di essere un... Siamo un... Sì, esatto Con quale? Eh, vale... Ma basta mancare Partiamo dal presupposto che Aslan, secondo me, è l'assassino Così, perché è sempre... Fidati, è sempre lui Sempre, sempre, sempre Perché lì si imbosca? Perché è un cinese Perché si imbosca? Ah, tempa ste culo cane Mi osservavo in un modo strano It's me Boh, lo vedo molto blando Aslan, diciamo, è sempre uno dei principali Sì, sempre, anche se non fa niente È il principale sospettato Abbiamo trovato un cadavere Abbiamo trovato un cadavere Quindi riportiamo chi era Dassù che è? Che è venuto assù? Aslan Dice che sono io, ma mi sa che... È lui È lui Ci ha sparato a caso Ed era lui che veniva da... No, Aslan Ma muore o non muore? No Dai, era palesemente... No, è palesemente Aslan Deve staccare la testa ancora qualcuno Sì, infatti Per essersi... Oppure chiamiamo il coso di emergenza Dai, dai, vai Allora aspettiamo un attimo Mi sa che bisogna aspettare il tot Esatto, sette secondi No Ecco! No, è di nuovo lui! Ma dai! Ma dai! Fietti ha stupato Mi ha slamato Che ansia che mi ha messo il coltello in gola Madò Madò Eh, niente Era di nuovo il signor Wasnot Che credo fosse Augu Dai! Sì, è stato bravo Sì, ma secondo me uno è lui E uno è Aslan Ancora Ancora Ah no, è morto! È morto Aslan Oddio! È slamato Eh, bonjour Bonjour mon amour No, Corona! No! No! È morto Corona! Dai! Il signor C Dai! Sì! Con Alex Con Alex Alex il leone Ok Che testa di cazzo Con il finocchio No! Eh, ma che si chiamano? Ok No, ma no Ma cosa? Ci sgavano prima di subito Allora, vediamo Boh, giriamo Tanto alla fine non c'è Ah, ci possiamo nascondere anche nelle ventole È stravello Salve Aslan Cosa c'è? Ok Possiamo dire che abbiamo visto Aslan in parte al corpo No, ma poi sai cosa? Aslan Eh, ma so che pensi che sia io No, ha leftato È crashatissimo Aslan è crashatissimo Eh, rip Rip È stracrashato Vabbè È un poverino Allora, dai Ci deve essere un Eh sì Caposaldo Esatto, e invece è morto Che potevamo uccidere alla fine Per vincere Esattamente Allora, inseguiamone uno E ammazziamolo Vai, fanarcio Però, bonjour ci ha sgamato Vai, morto Ucciso Slamato Vai, botola, botola Eh, no, aspetta Vai Uccidiamo anche lui Abbiamo cinque secondi Sì, fai la questa Eh, devo aspettare tre secondi Sì, fai la questa E fai la questa E dopo vai nella botola No, no, di un secondo No Lo stavamo eliminando Ma dai È una stramort Ok, dicono a Alex Che in effetti Davvero è Alex L'ho visto usare una botola Mmm Eh, no, non dico niente Ma chi è? È il tipo È il socio impostore Ah, è vero, è vero Il nostro Vedi, è lui l'amico Morto Morto Meglio Meglio perché oramai Lui era fottuto Ti ha dato Mi ha dato Ah, quindi Quindi tipo Loro non sanno Bene Alex è morto per sempre Ma tu adesso basta Che ne uccidi due Due su tre Due su tre Sì, ma quel Cioè Fanarcio era morto Fai così Stai sempre vicino a Fanarcio E dopo uccidine un altro Ora lui ha visto Che io ho fatto la quest E ora lo slamo E ora lo slamo Via, ciao Ciao, ciao, ciao No, no, dovevi tenerlo No, no, no Uccido, uccido Uccidi anche lui Ora uccido Lui abbiamo vinto Non deve sgamare Quattro secondi Due, uno Vinto È stato bravo Sì Ok Yeah Yeah Yes Ti piace Oh, perché E giravano in coppia Invece si sono staccati un attimo L'abbiamo fucilati Yeah Yes Buono Vai, allora Vediamo se sei l'impostore Change, change Sei un passeggero inutile Si segga Attenzione Tempest Cosa vuole fare Cosa vuole fare Mi vuole slamare Ah, però lui si fida di me adesso Schumacher È morto Ok, ha leftato Va bene, uno in meno È un Tempest selvaggio Attenzione Allontaniamoci Vai Tu vai in G Ah, ok È morto Was not Ok, vediamo Sono morti tre Vabbè, Schumacher ha quittato Bonjour Was not Allora, Tempest per me no Master no, dice Ha fatto la tasca E si vede che l'ha fatta davvero A caso Però va bene Potrebbero essere gli inglesini Eh sì Han votato Alex Ok Fucilatissimo Ma vediamo se è l'assassino Alex Come vuole Non era l'impostore Perfetto Ok, quindi L'hanno votato in tanti Comunque Eh, infatti Ma sai che io Neanch'io Zero proprio Neanch'io Zero Tempest è la mia guardia del corpo O è il tuo carnefice No, no No, no È impossibile Mi sta troppo tempo dietro No, infatti Ti sta troppo tempo dietro Ti portai in un luogo appartato Che uccidono Tempest Eh, se uccidono Tempest È buono Dai, Tempest Vai Vai, vai Vai E farti uccidere Ma secondo me ci tira una di quelle fucilate No, no Sì Boh, me lo sento Dai, uccidi Ora o mai più ci uccide Se non ci uccide ora non è lui Ok È morto Italiano Fanarcio Beh, Tempest no Attenzione Il giallo Il giallo Non l'abbiamo considerato Perché è spagnolo Io non mi fai Spagnolito Eh, neanch'io Comunque ci sono ancora due assassini Eh, male Ah, fai così Ti porto in un'altra Tempest Allora, appena aggiustano le luci Fai la riunione di emergenza È il verde Votiamo verde Palese Perché? Segue un botto Poi appena vede che arriva un altro Se ne va Ok Giallo, giallo Votiamo il giallo Lo ammazziamo O tutto o niente O tutto o niente Sì, o tutto o niente Se ora eliminiamo uno Abbiamo praticamente perso La forza E abbiamo perso No Vedi il verde infame Fuck Perché mi metto già Eh, ovviamente È spagnolo Quindi Quante ne abbiamo vinte? Una Due Due